Potenziare i posti letto di terapia intensiva, rafforzare la rete di assistenza sanitaria territoriale e implementare il monitoraggio sono i tre punti fondamentali del piano per l'autunno con cui Regione Liguria si prepara a rispondere ad un'eventuale seconda ondata del virus. Anticipata inoltre la campagna vaccinale antinfluenzale che quest'anno inizierà con quattro settimane d'anticipo il 5 ottobre ed è stata potenziata con un più 30% di offerta. Il piano sanitario si basa su alcuni criteri individuati dal Ministero della Salute adattati poi alla realtà ligure. Aumentano i posti in terapia intensiva e semi-intensiva per un totale di 355, un aumento di 87 in intensiva e 88 in semi-intensiva con possibilità però di conversione. Per esempio il 50% dei posti letto di terapia semi-intensiva possono essere riconvertiti in qualsiasi momento in terapia intensiva. Questo per permettere da un lato un modello flessibile e dall'altro cercare di mantenere il più possibile l'attività di elezione. L'obiettivo è evitare quanto accaduto in emergenza dove tutte le terapie intensive erano dedicate ai malati Covid, prevedendo la possibilità di un numero massimo di posti superiore a quelli occupati nel picco di aprile. Uno dei problemi maggiori in questo aspetto è però la carenza di specialisti. Attualmente abbiamo potenziato la formazione in questo ambito ma ci vorranno degli anni per avere degli altri intensivisti sul campo. L'assistenza territoriale sarà rafforzata attraverso l'assunzione di infermieri di comunità e l'aumento dei gruppi strutturati di assistenza territoriale che saranno uno ogni 50.000 abitanti. Altra novità è l'introduzione di equipi operative formate da assistenti sanitari che supporteranno le direzioni scolastiche nella ripresa delle attività didattiche. Sarà un riferimento informativo e formativo e sarà anche il riferimento sanitario per le scuole stesse, cioè se hanno dei dubbi sui comportamenti da tenere, cosa fare in determinate circostanze. Infine l'anticipo della campagna vaccinale contro l'influenza, sia nella speranza di raggiungere un numero più ampio di destinatari, sia di alleggerire il lavoro ordinario del Dipartimento di Prevenzione, che in questo periodo si trova già sotto stress nel monitorare la circolazione del virus. Abbiamo più del 30% in più di offerta e speriamo di raggiungere coperture vaccinali che siano una volta tanto ottimali.